Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft non è vero che non è minecraft it, è un minecraft find the button si chiama ultimate find the button e il creatore della mappa ha la skin di deadpool quindi non so se essere felice o meno di questa cosa sono un po' felice perchè mi piace deadpool ma un po' triste perchè se la skin è di deadpool e il creatore della mappa rappresenta un po' deadpool questa mappa sarà difficile e non lo so, non mi piace tantissimo come cosa ci sono delle regole, sta in game mode 2 non cittare 1.1.2 trova tutti i bottoni, ok non ci sono regole quindi praticamente, perchè è tutto come al solito start here, start here e startiamo, no forse di qua ah ho dovuto cliccare due bottoni per attivare il terzo bottone incredibile allora, beh le stanze in realtà non sono grandissime, se sono tutte grandi quanto saranno? saranno 20 blocchi per 20? poi sono qualcosa di più, tipo saranno 25 per 25 eh, direi che come inizio non è male allora, bottoni, qua siamo in una foresta quindi secondo me se c'è un bottone è tipo a mo' di parkour devo fare parkour per trovare un bottone qui qua sotto non c'è niente insomma devo fare tipo il viaggio, il viaggio infinito peggio di Narnia qua c'è un bottone non lo so potrebbe essere questo? mi sa che era questo ok, ok, il primo livello è facile il primo livello è stato facile ora piano piano dovremmo andare ad aumentare la difficoltà in teoria allora, qua siamo nel livello numero 2 ci sono dei blocchi, c'è una casetta in realtà quindi potenzialmente direi che è dentro la casa il bottone a questo punto anche se posso andare ai lati prima di salire ai lati perché io ormai il gioco lo conosco ragazzi queste mappe ne ho fatte tante so dove andarmi a cercare le cose e potenzialmente se si può salire qua sopra no, non si può salire sì che si può salire, c'è una scala allora forse c'è davvero un bottone qua sopra intanto direi, entriamo nella casetta e vediamo che c'è di bellino ci sono dei quadri delle ceste posso passare attraverso? posso passare attraverso ma vedi, cioè io appena vedo un quadro io già lo capisco che c'è qualcosa di strano perché qua magari dici difficile che ci sia un passaggio segreto ma qui c'è pure la scaletta amico mio, ma tu lo sai che io ci passo attraverso boom, eh ho capito ma la leva la leva non ha fatto molto ma abbiamo comunque trovato la leva quindi a questo punto direi saliamo le scale e vediamo che cosa succede ci sono delle ceste magari attivando quella leva ho sbloccato qualcosa penso di aver attivato quel pistone magari sotto il pistone si trovava qualcosa si giravano allora qua in cima di sicuro non ci sono bottoni l'unico problema è che i bottoni sono anche di legno in questa mappa quindi è più difficile trovarli ok signorina leva dobbiamo giocare ancora un po' vediamo sto quadro che tanto non ci interessa insomma il vento possiamo farlo vuoi capire che cosa fa questa cosa? perchè non sento rumori non lo so ragazzi non lo so giuro non è un bottone quindi immagino ci sia un command block dietro però non ho sentito rumori quando non senti rumori è per forza un command block altrimenti avrei sentito un pistone o qualcosa del genere a questo punto direi secondo me potrebbe aver fatto delle modifiche all'ambiente magari ci sei levato qualche foglia non posso passare magari di qua no stessa roba di prima e allora boh ragazzi ah qua c'è un buco mannaccia a te mannaccia livello numero 3 siamo ehi al mare estate che bello perchè vedo così tanti perchè devo fare il parkour? perchè devo fare il parkour? dai non fammi fare il parkour lo sai che io il parkour non siamo amici e qua c'è una leva perchè non fanno rumore queste leve no zio dai no tu hai le leve forca vacca non voglio mettere dei bottoni con dei pistoni normalissimi no mettiamo le leve mettiamo le leve oh mamma mia ok facciamo un po' di parkour a sto punto e vediamo dove riusciamo ad andare ok me lo sto cavando ecca la ho parlato mamma mia io lo odio il parkour non è che c'è un bottone nascosto qua dietro posso andare a casa tranquillo no no a quanto pare no ci ho provato ok non ce la farò mai devo salire di qua salgo di qua sempre a fare il parkour finisco avete visto ma io il parkour in realtà siamo migliori amici non passa giorno senza che io pensi al mio carissimo parkour ok ok oh mortazza ah si è sbruccato qualcosa mi sa che lì c'è un bottone eh la butto lì secondo me lì potrebbe esserci un bottone ok ok e bottone sia boom livello numero 4 e ora siamo in quella che sembrerebbe essere una miniera a cielo aperto che non capisco molto come cosa cioè nel momento in cui fai una zona tutta chiusa eh che ti costa mettereci un muro sopra qualcosa non lo so qua c'è un bottone io nel dubbio lol ok io nel dubbio dovevo cliccato ragazzi eh perché se era quello e passavo mezz'ora a cercarne un altro poi non c'è era davvero triste come cosa ah boh non vorrei che ci fosse un'altra leva che mi sblocca qualcosa qua c'è un cartello leggiamo cosa dice drop droppa la chiave droppa la chiave eh droppa la... quale chiave? bella domanda qua c'è della lava ragazzi nel corso della mia... ah eh no invece eccola la chiave drop here ok boom ho droppato la chiave ah e si è levato un blocco interessante qua c'è detto questo blocco un bottone un bottone livello numero 5 signore e signori eeeh e siamo nella giungla cosa mi sta facendo fare un... un giro di tutti i biomi non è male eh non è male mi piace come idea non è il primo che faccio in cui mi fa girare tanti biomi ma è il primo che è così comunque carino cioè il deserto posso essere deserto c'era la spiaggia insomma la spiaggia mi piaggia ragazzi non per dire il painting posso buttarlo anche allora non so voi ma secondo me potrebbe esserci qualcosa anche in cima a questi alberi la butto lì vogliamo vedere negli angoli no negli angoli non posso entrare vediamo al lato succede qualcosa ciao posso salire mi fai salire qua se tu mi fai salire qua io poi cado sulla foglia e vado oltre c'è qualcosa di bello non c'è assolutamente niente assolutamente niente che bello ok vediamo all'interno della stronghold ci sono delle sbagli di ferro che sono relativamente pericolose in realtà potrei cadere nella lava no no con questa disposizione no però diciamo che in un'altra disposizione potrei tranquillamente cadere nella lava devo fare del parkour forse non lo so non lo so non vedo blocchi che mi aiutano a fare parkour si in teoria potrei riuscire a salire la sopra e quello è un bottone in effetti quello è un bottone io come cacchio ci arrivo da sopra si deve alzare un blocco manca un blocco che si alza perchè io non posso ah scherzavo mi scordo completamente che le sbagli di ferro ci posso salire sopra e fare cose ok ok boom no no c'era un bottone qua ah è invisibile noo dai un altro bottone di quelli scemi però non mi dice niente questa volta eh io ho capito che è un bottone però che ci devo che ci posso fa prima di salire su una di queste cose dove ci sono le liane vediamo se qui mi fa passare non mi fa addirittura un muro mi sembra esagerato un muro eh mi sembra piuttosto esagerato qua posso salire? non posso salire e allora ragazzi io non so dove andare quel bottone che cacchio ha fatto magari mi ha sbloccato un passaggio di qua posso andare ora? non lo so magari si magari no magari no però qui posso andare abbastanza no non posso andare abbastanza in alto scherzavo lì in alto non ci posso andare ah ma questi sono dei golem belli sono tipo quelli che faccio nella mia serie di minecraft che figata che cosa c'hanno in mano gli apislazuli boh mmm ok aha interessante e vuoi sapere come cacchio faccio andare su però ora se va per forza su qua posso andare qua posso andare posso anche stare in piedi là sopra che non è male come cosa posso andare di qua ma non mi serve forse deve fare del parkour ok sono venuto qua dentro ma non c'è nessun bottone oh mamma mia ragazzi ok gli alberi li abbiamo esclusi ma devo ricliccarlo ah no aspetta eccolo qua manca la sballa di ferro prima c'è la sballa di ferro non c'è più perfetto numero 6 ora siamo nel nether e c'è un portale fatto con il vetro quindi mi sa che non è proprio attivabile abbiamo un bel po' di netherrack io che ci posso fare tutta sta netherrack comunque ho capito un po' il mood del gioco eh e il mood è il seguente prima di trovare il bottone devi attivare un qualche altro tipo di blocco quindi vediamo se c'è qua dietro qualcosa assolutamente niente qua c'è una struttura di netherbrick io direi prima salire dentro a sto punto nella super mega fortezza ci sarà una leva anche qua parkour no dai cioè per favore per favore cioè cos'è una find the button o un parkour mode forever and ever orca vacca davvero difficile ragazzi non è un parkour di quelli che mi piacciono e partire dal presupposto che non me ne piace nessuno se non quelli facili ok 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 sono in cima e c'è un qualche tipo c'è un qualche ma non c'è nessun bottone ragazzi che cacchio sono venuto a fare qua allora mmm vediamo dall'alto tutta la situazione e io non vedo assolutamente niente ragazzi non posso la consigliere qua sopra che cacchio ma ehi lì c'è un buco o sbaglio quello è un buco a sto punto io direi di fare così facciamo parkour porca vacca è un buco è un buco devo andare su quel buco tutta questione di buchi ragazzi oh mamma mia devo fare il parkour saltando ma non saltando troppo perché altrimenti sbatto contro il muro poi muoio non muoio però cado oh mamma mia oh no 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 non facciamo il parkour io non lo voglio fare il parkour io non lo voglio fare mannaggia oh oh non ce la faccio incredibile vai non ce la faccio un bel saltino piccolino ok ce la faccio ce la faccio si livello numero se oh che cacchio è sta cosa what ma che co siamo nel land ok questo l'abbiamo capito siamo nel land e se c'è un qualche tipo di parkour anche qui ragazzi io mi arrabbio perché non è possibile che uno cerchi una mappa ftb find button e si ritrova in un parkour cioè che cosa mi rappresenta questa cosa ragazzi ah a quanto pare che sembrerebbe non esserci molto parkour qui ci sono delle cose strane no 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 tu dimmi che questo no no dimmi che io devo fare il parkour così no 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 il parkour con gli shulker box ma voi siete scemi cioè hai capito che cosa devo fare no 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 io spero ovviamente che questo sia l'ultimo livello ragazzi perché io il parkour lo odio hai capito non è che lo odio è che non si no spero questo si si apre di qua ok ok no sono sottili ma non troppo 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 oh mio dio il vetro pure poi do cacchio vado andare lì andare lì ok poi vado qui oh mamma mia poi vado qui oh mio dio poi vado lì oh mio dio che ansia dove sto andando non lo so andiamo di là nooo io odio e il parkour ok ce la faccio ok ok di qua di qua devo andare lì vai ok 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 sono in cima sono in cima e secondo me devo andare lì a questo punto try again nooo no 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 raga try again will dire che non è qua il bottone cacchio al bottone ragazzi la sotto no no è un blocco intero aspetta manca qualcosa la sotto io direi proviamo ad andare qui clicco questo col destro e c'è il bottone nascosto sì sì e abbiamo vinto super mega pochi d'artificio per tutti alla grande schiere andiamo via andiamo di qua andiamo di qua sono millemila porte poi faccio uscire c'è il bottone vai if you want e posso distruggere tutto alla grande quello più difficile di tutti che non è quello del land quello del land eh ci ho messo tra quattro volte ma ce l'ho fatta quello più difficile no neanche questo e questo qui e questo qui quello mi ha fatto dannare stupidi bufi maledetti morite tutti pen di fuoco no ha passato attraverso esplodete maiale ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio per la visione con la visione di un piaccia se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se ancora non è altifatto iscrivetevi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate io vi saluto ciao turuturutututti ciao 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 ciao